Reina! Ce ne sono troppi! Reina si chiese amaramente quante volte le era capitato di dirlo nella sua carriera di semidea. Avrebbe dovuto registrarlo e premere sul tasto play a ogni occasione, per risparmiare tempo. Probabilmente avrebbero scolpito quelle parole pure sulla sua lapide, una volta morta. Ce ne erano troppi. I due levrieri si portarono al suo fianco, ringhiando contro i gusci di terra. Reina ne contò almeno venti, che si avvicinavano da ogni direzione. Il coach Edge continuò a parlare con voce femminile. I morti superano sempre il numero dei vivi. Questi spiriti hanno aspettato secoli, senza poter esprimere la loro rabbia. Ora io ho donato loro dei corpi. Uno dei fantasmi di terra si fece avanti, si muoveva lentamente, ma il passo era così pesante da incrinare l'antico lastricato. Nico! chiamò Reina. Non riesco a controllarli, rispose lui, mentre continuava a sbrogliare freneticamente l'imbracatura. Deve essere per via del guscio di pietra. Ho bisogno di un paio di secondi di concentrazione per fare il salto. O rischiamo di teletrasportarci in un altro vulcano? Reina imprecò fra i denti. Non sarebbe mai riuscita a respingerli tutti da sola mentre Nico preparava la fuga, soprattutto con il coach fuori combattimento. Usa lo scettro! disse. Procurami qualche zombie! Non servirà! canti lenohegg. Fatti da parte, pretore! Lascia che gli spiriti di Pompei distruggano questa statua. Una vera romana non opporrebbe resistenza. I fantasmi avanzarono ancora strascicando i piedi. Dai buchi che avevano al posto della bocca o riusciva un fischio sordo come di qualcuno che soffia in una bottiglia di vetro vuota. Uno calpestò il pugnale da tennis del coach facendolo a pezzi. Nico si sfilò lo scettro di Diocleziano dalla cintura. Reina, se evoco altri romani morti, chi ci dice che non si schiereranno con i compagni? Lo dico io, sono pretore! Procurami dei legionari e li controllerò! Tu perirai! Continuò Edge. Non riuscirai mai! Reina gli mollò una botta in testa con l'elsa del coltello. Il satiro crollò a terra. Scusi, coach! Borbottò. Stava diventando fastidioso! Nico! Gli zombie! E poi concentrati per tirarci fuori di qui! Nico sollevò lo scettro e la terra tremò. I fantasmi scelsero proprio quell'istante per attaccare. Aurum balzò sul primo e gli staccò letteralmente la testa con un morso delle sue fauci metalliche. Il guscio rimasto cadde all'indietro e si infranse. Argentum fu meno fortunato. Si lanciò contro un altro spettro, che si difese con un colpo del pesante braccio centrando il levriero sul muso. Argentum volò a terra e si rialzò barcollando. Aveva la testa piegata a 45 gradi e uno dei suoi occhi di rubino non c'era più. La rabbia esplose nel petto di Reina come un calderone bollente. Aveva già perso il suo pegaso. Non aveva nessuna intenzione di perdere anche i suoi cani. Conficcò il pugnale nel torace del fantasma. Poi sguainò il Gladius. Combattere con due lame non era molto romano, ma Reina aveva trascorso qualche tempo in compagnia dei pirati. E aveva imparato più di un trucchetto da loro. I gusci di terra si sgretolavano facilmente, ma picchiavano come mazze pesanti. Reina non sapeva come fare, però di una cosa era certa. Non poteva permettersi di ricevere nemmeno un colpo. A differenza di Argentum, non avrebbe continuato a vivere con la testa spezzata. Nico! Chinò il capo per evitare due fantasmi, che si colpirono a vicenda. Quando vuoi, ma fa presto! Al centro della corte la terra si squarciò. Decine di soldati scheletro sbucarono in superficie, gli scudi come grandi monete corrose, le spade più ruggine che metallo. Reina non era mai stata così sollevata nel vedere i rinforzi. Legione! urlò. Adacem! Gli zombie risposero formando una linea di battaglia tra i fantasmi di terra. Alcuni caddero sgretolati da pugni di pietra. Altri riuscirono a serrare i ranghi e sollevarono gli scudi. Alle sue spalle, Nico imprecò. Reina azzardò un'occhiata. Lo scettro di Diocleziano stava fumando fra le mani del figlio di Ade. Lo scettro sta facendo resistenza! gridò. Non credo che gli piaccia evocare romani per combattere contro altri romani. Reina sapeva che gli antichi romani trascorrevano la metà del tempo a battersi gli uni contro gli altri, ma decise di non farlo notare. Tu pensa soltanto al coach! Preparati al salto! Io cerco di guadagnare tempo! Nico strillò. Lo scettro di Diocleziano andò in mille pezzi. Lui non sembrava ferito, ma guardò Reina in stato di shock. Io non so cosa sia successo. Hai solo qualche minuto adesso prima che gli zombie scompaiano! Legione! gridò Reina. Orben formate! Gladium signe! Gli zombie circondarono l'Atena Partenos, le spade pronte al combattimento corpo a corpo. Argentum trascinò il coach svenuto da Nico, che si stava legando furiosamente all'imbracatura. Aurum stava di guardia, lanciandosi contro qualunque spirito superasse la linea. Reina combatteva spalla a spalla con i legionari morti, infondendo loro il proprio vigore. Sapeva che non sarebbe bastata. I fantasmi di terra cadevano facilmente, ma altri se ne formavano di continuo, in spirali di cenere che si levavano dal suolo. Ogni volta che assestavano un colpo, uno zombie cadeva. Nel frattempo, l'Atena Partenos torreggiava sulla battaglia. Regale, altera e imperturbabile. Un aiutino ci farebbe comodo, pensò Reina. Forse un raggio mortale? Anche un bel castigo divino alla vecchia maniera andrebbe bene. Ma la statua continuò a irradiare rancore, equamente distribuito fra Reina i fantasmi. Volete trascinarmi a Long Island? Sembrava dire. Buona fortuna, marmaglia romana! Era il suo destino, pensò Reina. Morire difendendo una dea passivo-aggressiva. Continuò a combattere, infondendo ancora un po' della sua forza nelle truppe dei morti. In cambio, i zombie la bombardarono di disperazione e risentimento. Combatti per nulla, li bisbigliavano nella mente. L'impero non esiste più. Per Roma! gridò Reina con la voce roca. Menò un fendente con il Gladius contro un fantasma di terra e ne pugnalò un altro al petto. Dodicesima legione fulminata! Tutto attorno a lei cadevano zombie. Alcuni venivano annientati in battaglia. Altri si disintegravano da soli, mentre il potere residuo dello scettro di Diocleziano si esauriva. I fantasmi di terra si fecero più vicini, un mare di facce deformi dagli occhi cavi. «Reina!» urlò Nico. «Ce ne stiamo andando!» Lei si voltò. Nico aveva finito di imbracarsi all'Atena Parthenos. Teneva il coach svenuto fra le braccia, come una damigella da portare in salvo. Aurum e Argentum erano scomparsi, forse troppo danneggiati per continuare a combattere. Reina barcollò. Un pugno di pietra la colpì di striscio al torace e una fitta di dolore l'esplose in un fianco. Le girò la testa. Cercò di respirare, ma era come inalare coltelli. «Reina!» gridò di nuovo Nico. L'Atena Parthenos tremolò, sul punto di svanire. Un fantasma mirò alla testa di Reina. Lei riuscì a schivare il colpo, ma il dolore alle costole le fece quasi perdere i sensi. «Arrenditi!» dissero le voci nella sua testa. «L'eredità di Roma è morta e sepolta! Proprio come Pompei!» «No!» mormorò. «No! Finché io sarò viva!» Nico tese la mano, mentre scivolava via nelle tenebre. Con l'ultimo brandello di forza, Reina spiccò un salto per raggiungerlo.